Il 18 maggio è la data che viene ricordata ogni anno come quella dello sfondamento della linea Gustav, quella che pose fine al lungo inverno di guerra e quindi di morte e distruzione a Cassino e nel Cassinate. Dove per nove mesi non erano riuscite le truppe degli alleati, smaniosi di poter entrare a Roma, riuscirono i polacchi del generale Anders con un'offensiva partita l'11 maggio, ma non subito vincente, perché ai primi tre attacchi furono tre volte respinti. L'attacco decisivo fu intrapreso il 17 maggio e all'alba del 18, quota 593, cadde. I paratedeschi, che avevano difeso fino all'ultimo la posizione, si ritirarono e sulle macerie di Monte Cassino i polacchi sarono la loro bandiera bianca e rossa. Il campo di battaglia, racconta il generale Anders, a cui la città di Cassino ha dedicato tre anni fa una piazza ed un monumento, offre uno spettacolo tremendo. Cadaveri di soldati, carri armati distrutti, crateri, brandelli di armi e di uniformi. L'odore della putrefazione è tutto intorno il rosso dei papaveri. Questo accadeva 73 anni fa, nei vari cruenti tentativi di stanare le truppe tedesche asserraiate alle spalle della famosa abbazia fondata da San Benedetto, persero la vita circa 20.000 soldati tedeschi e oltre 50.000 soldati alleati. Oggi, su quel terreno a ridosso dell'abbazia, c'è il sacrario militare polacco, dove giacciono 1051 soldati polacchi che morirono combattendo nella battaglia finale a Monte Cassino, nel maggio del 1944. Una lapide reca la scritta «Noi soldati polacchi abbiamo dato le nostre anime a Dio, i nostri corpi all'Italia, i nostri cuori alla Polonia». Da allora un grande legame unisce i polacchi a questa terra, perciò anche quest'anno autorità e veterani sono venuti dalla Polonia in Italia per le cerimonie di commemorazione. Oggi, venerdì 18 aprile alle ore 17, verrà celebrata una santa messa solenne, seguita da una cerimonia commemorativa dedicata ai caduti del corpo d'armata polacco. Le celebrazioni si chiuderanno il 19 maggio ad Acqua Fondata, con la commemorazione solenne al monumento ai caduti del secondo corpo d'armata polacco e al monumento ai caduti di tutte le guerre, e con la deposizione dei fiori all'edicola sacra della Madonna, luogo di prima sepoltura di soldati polacchi.